Mandalo! Attacca! Dai! Attacca! Comando lascia, stai fermo! Vieni con calma! Teresa, non riscansa le risparle. Lui ha fatto la minaccia. Ma che dopo? Ci metteremo anche delle persone dentro. Sono le 76.000. Non devi fare niente a me. Scritta a chi sa la minaccia. Stavolta ho fatto dei cani.